Un secondo incontro nella provincia di Salerno era dovuta data l'importanza dell'agricoltura e dell'economia agraria in questo territorio. Si tratta di aziende leader in numerosi settori, da quello zootecnico a quello della produzione di quarta gamma, quindi sono aziende estremamente redditive che hanno bisogno di un adeguato sostegno anche per ulteriori sviluppi e per guadagnare ulteriori margini di competitività. I bandi riguardano un poco tutto lo scenario di interesse per queste aziende, da quelli che sono gli interventi strutturali per il miglioramento delle produzioni agricole all'adeguamento degli allevamenti zootecnici secondo quelli che sono dei canoni sempre più stringenti per ridurre l'impatto degli allevamenti sul suolo e per migliorare le condizioni di vita degli animali. Non di secondario interesse, proprio nella qualificazione delle imprese agricole e anche le attività connesse alla gestione dei reflui che noi vogliamo sostenere con una tipologia di intervento specifica, la 415, con impianti che possono consentire l'abbattimento dell'azoto. Purtroppo anche il territorio di Salerno è stato fortemente interessato dalla direttiva Nitrati. E poi c'è tutto il mondo della trasformazione, la 422, già uscito il bando e di prossimo uscita quello della 421, che può interessare una vasta platea di utenti, dalle imprese agroalimentari che tradizionalmente sono ricorse agli incentivi comunitari per migliorare e ampliare le loro catene operative, a quelle che sono dei piccoli operatori che senza avere ambizioni di diventare imprese di trasformazione dell'agroalimentare, ma possono diversificare la loro proposta e la loro offerta di prodotto con delle produzioni, con dei trasformati di alta qualità. In questo caso noi entriamo nella possibilità del finanziamento previsto dalla 422.